Sono ospitati in una struttura alberghiera le cinque famiglie evacuate dalla palazzina di via Orto Agrario a Teramo, dove la scorsa notte un incendio ha distrutto il tetto dell'edificio che è al momento inagibile. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sul posto anche i carabinieri, polizia, il vigile ecologico e il vicesindaco Stefania Di Padova. La situazione è sotto controllo e le cinque famiglie stanno bene. Si spera, dopo le opportune verifiche, che possano rientrare presto nelle loro abitazioni, spiega il sindaco Gian Guido D'Alberto. Intanto un ringraziamento ovviamente ai vigili del fuoco che questa notte prontamente sono intervenuti appunto per spegnere l'incendio ed arginare una situazione che poteva sfociare in tragedia. Questa mattina stavano completando le operazioni di spegnimento definitivo. E anche verificando l'impatto che l'incendio ha avuto per tutti gli appartamenti, sia l'incendio che ovviamente gli effetti delle operazioni di spegnimento sui vari appartamenti. Quindi attendiamo la relazione finale per capire qual è lo stato di inagibilità e soprattutto la durata. La rete istituzionale si è attivata da subito e quindi affrontiamo adesso la gestione dell'assistenza. L'amministrazione comunale con la vice sindaca Stefania Di Padova sul posto ha gestito la fase dell'assistenza per abitativa per le famiglie interessate che sono state ospitate in una struttura alberghiera del centro, del Gran Sasso, per questa notte. E oggi, già nei sopralluoghi che ho fatto questa mattina, sia sul posto che nella struttura, stiamo affrontando il tema dell'assistenza per i prossimi giorni. Perché non si tratta di una questione che si risolverà a breve, quindi si tratta di una palazzina al momento inagibile. E quindi adesso gestiremo, fin dalle prossime ore, l'assistenza per le famiglie interessate. Cinque famiglie che ospitate questa notte al Gran Sasso saranno ospitate nei prossimi giorni o attraverso la rete familiare oppure l'assistenza del Comune.